La mia campagna elettorale inizia nella culla del nostro territorio, un luogo a cui tutti noi siamo affezionati, l'ospedale di Merati. Ora chiedo a voi cittadini se finalmente non sia arrivato il momento di avere in Regione Lombardia una voce del nostro territorio che dia forza il nostro ospedale. Il 12 e il 13 febbraio votano i moderati e scrivi Procopio. Grazie.